Sì, va veramente fuori? Sì, salutate Bella Buongiorno Buongiorno, buongiorno Masic è sempre molto persona delicata Ecco, per farvi capire di quanto Io sono sul bordo di un palazzo Loro non mi vedono, ma io sono sul bordo di un palazzo Per farvi capire di quanto proprio Sono preparato Allora arrivo su questo canale Aspettate che il resto Mi butto giù, ecco, ecco, perfetto Mi sto buttando giù, vabbè Comunque, cosa fanno questi due Simpatici signori sul nostro Sul nostro canale Cosa faranno? Che cazzo ne so Comunque faccio dire da loro che così poi Principalmente video di FIFA COD Beh, quando uno si gioca Però principalmente video di FIFA Perché gioco con cui dove stiamo giocando Maggiormente Sì, perché devo sapere che Io e LOL e il Diablo siamo Su PC, cioè, sì, l'avevo detto che siamo su PC Forse l'avevo detto, non mi ricordo Dunque siamo su PC principalmente Invece qui i due Signori amici qui presenti Sono Masics su Xbox Per essere tutte queste X che mi danno fastidio Invece il dedo è su PlayStation Giusto, proprio per fare il trio della Madonna La Santa Maria, no? Come cazzo si chiama? Boh, ecco, si dettora ha dato il suo Dedo Ha dato un segno di vita Pregando che quello non sono io Ma ero un cato che si è aggiunto così a caso Salve Ah, era tu a chi non lo è il Diablo Buongiorno lei Buongiorno, buongiorno Stavamo giusto registrando, sa? Ritardatare, ritardatare È proprio intervenita È proprio intervenita al momento giusto Ecco, piccolo taglio perché l'ho intervenito Mi danno fastidio Intervenito? Non ce la fai a parlare italiano? Eh, oh ragazzi Non vedete troppo voglio dire Sì che è intervenito Intervenito Hai capito sbaglio Un congiuntivo Ma parca puttata Ha intervenito Eh, ho capito Beh, calmati Mamma mia Scusate Sono un po' scalmanati Questi ragazzi È intervenuto così Senza visto il muto Preavviso 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 Esatto, esatto Senza preavviso E quindi stavamo appunto dicendo Che cosa fanno questi due nerdoni Cioè Dedo e Masics Sul nostro canale Beh, io faccio Assassin's Creed 3 Anche a Assassin's Creed Oltre a me Perché io avevo già annunciato Di fare Assassin's Creed 3 Però ho rinunciato Al gioco Per lasciarlo Ben più esperto Di Assassin's Creed Dedo Che è molto meglio di me Invece io Penso di fare Se entro 3 Se La fulba Che stiamo facendo Io Masics Lo stimo Funziona Da solo Ma c'è Masics Si occuperà anche dei code Visto che Particolamente Gli ha comprati tutti Non so Sì, ma C'è, ci sto più giocando Code Sto giocando sulla FIFA Non so perché No, però è cosa Poi ci sono già io Non vale Lui Cioè C'è C'è concorrenza In questo canale C'è con il video di code Capita una volta Ogni morte di papa O di missione Per rimanere in tempo Esatto 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 Io Sto Mi sto schiantando Perché voi non mi vedete Ma io mi sto schiantando Come un pazzo Ecco, posso dire una cosa Posso dire una cosa Posso dire una cosa Che Siamo scoperti di una cosa Che io E forse anche Il nostro amico Franky Farà Team Fortress 2 E anche io Sì Dual Dual Inzio totale Sì, inzio totale Perché non ho capito Un'assoluta minchia Di quello che ha detto Il nostro compagno Che pare O skype Che mi sembra Che mi sta parlando Lo scimmione Di king kong Non so Quindi non sento Praticamente niente Ma sì Va bene Ah, di Fortress 2 Ah, sì Sì Faremo anche quello Non è capace Di far niente Ecco Grazie Siamo tutti Molti amici Qua Comunque Si sbaglia Mi sbaglio Ragazzi Questo video È lungo E stiamo Niente Ma comunque Va benissimo È così Che ci piace Sono finito In un cazzetto E la spazzatura Eh, vabbè Eh, vabbè Ragazzi Poi non si vede Queste azioni Veramente Da bambino prodigio Che sto facendo Silenzio Eh, silenzio Cioè Non so Vabbè Che bello Taglieremo un po' Di pezzi In questo video Perché Sì Perché Ci sono Togliere vini Dalla noia Tagliere vini Dalla noia No, sono tanti Cioè Parecchi Ma non Ma non è che ci riempie Di pacco opening Vero? Cioè Non fa solo quello Voglio sperare Sì Perché non sono miliardario Quindi più che altro È ovvio che non farò solo pacco Perché ne faccio Un al mese Anche c'è Cioè Non è neanche troppo Pacco opening Lo farò io fra poco Ecco No, no, no Fra poco Non ha il suo pacco Vero che arriva Quelle cose Ma con culo che abbiamo Con culo che abbiamo Nei pacchetti Cazzo Non vi dovete aspettare tanto Perché sapete La mia fortuna È È timidale Vabbè Io su FIFA 12 Avevo tantissimo Culo nei pacchetti Ma Ho detto che tu hai trovato Piché al terzo pacchetto Che hai aperto Va Ho trovato anche Cosa Vabbè ragazzi Direi che è molto utile Discuterne adesso Per cui Rimandati queste cose Io Scusatemi Ma non so controllare La macchina di GTA 4 Sua terra Cioè sono proprio Potremmo fare Le recensioni Le recensioni sui giocatori Come io sto lavorando Adesso La recensione Di un misterioso giocatore Che non dirò Oh Mistero 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 Ma si dillo Che tanto Non ci guarda nessuno È argento È argento A 71 Fa di nome Michael Hate E ti devi togliere un rene Per comprarlo E Vabbè Vabbè Tanto I reni sono quattro Per cui siamo a posto Sono quattro dove? Eh Vabbè Ma scusi Io ho imparato Eratomia Dal piccolo Dal piccolo chirurgo E da me i reni erano quattro C'era anche La chiave inglese A fianco ai reni Se non ricordo male Comunque Sì dai L'allegro chirurgo A parte queste Brutissime cose Ecco poi Un'altra informazione Un'altra informazione Che ti vorrei dire Io farò Allora Il profilo Del Del canale Metteremo una figa Gigante Quindi rispettate Non ve l'hanno detto Non dovevo dirlo Ma non riuscivo a trattenere Il segreto Eh sì sì Proprio Questa sua delicatezza Che E mi sculdi Ma non riuscivo a trattenerlo Mi spiace Guardi Gli darò una punizione Dopo Deve farmi I compiti Poi Perché Non si può farmi Che tristezza Ma almeno Pagato O poco Una merda Popo Una merda Una merda Sì esatto Una merda Vabbè ragazzi Questo video Cioè Stai facendo più video Parlando E facendo niente Piuttosto che video Attivi Perché I termini che ci saranno caricati E magari anche di più Almeno Tranquillo Tra poco arrivano Tra poco arrivano Io su Sim City Non faccio niente Praticamente Parlo un po' Ti presto Ti presto l'Easy Cup Che ce l'ho Oltre al PVR HPVR Minha Ho una Ho una fabbrica Però ti devi comprare Minha HPVR Minha Minha HPVR Maga tu hai un sacco di soldi Quel cosa Vabbè Va bene ragazzi Siamo proprio La perfetta caricatura Di me la godo Proprio È uguali Il problema è che c'è la caricatura È quello il problema Vabbè Sono qua Ok Visualizzatore sconosciuto Che sei venuto qua per sbaglio Ti salutiamo Salutate Vale La perla Che casino Ciao 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 ciao